Musica Assessore Ciro Burriello del Comune di Napoli Un anno veramente duro per tutto lo sport italiano Ma anche e soprattutto della campagna Ci parli un po' delle iniziative che avete messo in campo E cosa pensate di questo momento? È stato un anno difficile Ma per tutto insomma Non soltanto per lo sport Per i cinema, il teatro Insomma tutto un comparto che è in crisi Da una pandemia che ci ha segnato profondamente E lo sport ha subito non meno di altri le difficoltà di questo momento Basti pensare a tanti annullamenti che abbiamo dovuto fare Per un programma di iniziative sportive Che avevamo per l'anno scorso veramente bello E che abbiamo dovuto spostare a quest'anno Qualche cosa siamo già riusciti a fare Qualche cosa stiamo iniziando a programmare Auspicando insomma in un periodo primaverile Dove con l'incremento dei vaccini Insomma un incontro con la bella stagione Ci potrà aiutare finalmente a far rivivere lo sport In questa regione e in questa città Che ormai negli anni scorsi aveva segnato Appuntamenti veramente importanti Stiamo organizzando delle attività Ci prepariamo per il futuro Con gare podistiche Con gli assoluti di scherma Di giudo Avremo di nuovo come abbiamo fatto Nel periodo autunnale Quando insomma non stavamo ancora in una zona rossa Abbiamo ospitato l'autunno Della ginnastica artistica Che abbiamo intenzione di riproporre Nuovamente al Palavesuvio Avendo e godendo di spazi importanti La possibilità di poter fare Un'altra attività nazionale Legata appunto alla ginnastica artistica Che insieme agli assoluti di scherma E anche a quelli di giudo Insomma daremo un impulso Un riavvio a una serie di attività Che purtroppo erano state fortemente compromesse Le palestre hanno vissuto veramente una grave crisi Dopo l'adeguamento a tutti i regolamenti Che erano stati imposti Una nuova chiusura Che in mente ha creato dei problemi importanti Per queste strutture Le palestre private Più di ogni altra Di altre attività Che si tengono all'aperto Come sport individuali Le palestre private Insomma tutto ciò che ha a che fare Con gli sport indoor Hanno subito veramente tanto E anche gli adeguamenti Che erano stati previsti Insomma nella parte finale Della stagione primaverile scorsa Con tutta una serie di limitazioni Ne hanno fortemente Insomma compromesso la stagione Speriamo che quest'anno Insomma qualche cosa di diverso ci sia Qualche elemento di novità ci sia Soprattutto nel rispetto delle regole Perché abbiamo ormai capito Sulla nostra esperienza Che rispettare le regole Significa diminuire La possibilità dei contagi In Campania, a Napoli Insomma il virus è arrivato Non era arrivato lo scorso anno Nella parte primaverile Invernale Ci è arrivato invece Con questa donna Con una violenza inaudita Quindi questo ci ha Come dire Segnato In tutto quello che sono Le attività pubbliche Private Che insomma stiamo iniziando a fare Non a caso insomma Le palestre sono quelle Che hanno subito Non poco questa pandemia Però ora insomma C'è una speranza Il vaccino I comportamenti personali E sociali di ogni singolo individuo Sono fortemente migliorati Io prevedo insomma Finalmente un riavvio Soprattutto appunto Per lo sport Nelle palestre Assessore Borrello Anche con il presidente Roncelli Si parlava Delle problematiche Riguardanti Le strutture scolastiche Le palestre scolastiche Sono state bloccate Non ci sono Possibilità per le società Di riavere Queste strutture In questo momento E questo ha creato Dei grandissimi danni Che cosa poter fare E come vi siete mossi Con il presidente Del comitato regionale Roncelli C'è piena sintonia Abbiamo lavorato insieme Purtroppo La chiusura delle palestre Sono un dato di fatto Quelle scolastiche Che davano tantissimo spazio Allo sport di base Agli sport Quelli che erano più aggregativi Insomma Lo sport vero Quello che parte appunto Dai ragazzini Che permette loro Di fare un'attività fisica Che migliora assolutamente Le loro prestazioni Psico-fisiche E soprattutto anche sociali Questo purtroppo È dovuto Come dire Ha segnato il passo A un'interruzione E nostra intenzione Con la riapertura Ci auguriamo Graduale Di tutte le attività sportive Segnare insieme A i dirigenti scolastici Insieme all'assessorato All'istruzione Insomma La possibilità Di poter riaprire Quante più palestre possibili Perché rappresentano Un vero sfogo Per la città Ho l'occasione Attraverso la vostra Emittente Telecapri Di poter esprimere Un saluto E un augurio A tutti gli sportivi napoletani Soprattutto a quelli Che guardano Questa bella trasmissione Fitness Caffè Che ci dà la possibilità Oggi di poter Analizzare Degli aspetti critici Ma soprattutto Analizzare La possibilità concreta Che alla ripresa Delle attività Ci dà Come dire Finalmente E' una ripresa Che noi ospichiamo tutti Perché insomma Quello che abbiamo superato Non è stato un momento facile Lo sport ha subito molto Ma lo sport Ha nella velocità Di esecuzione Come dire La capacità di rinascita Per cui noi affidiamo Alla mentalità dello sportivo Anche la capacità di rinascita Rispetto a un anno Che è stato veramente difficile Che è stato veramente difficile